Anche noi vogliamo le sorprese dei cereali Oh giusto cielo, lo sapevo che prima o poi qualcuno di voi lo avrebbe detto Non preoccupatevi, abbiamo molte scatole di cereali Le scatole Vogliamo le sorprese che sono nascoste in quelle scatole e mi tirano testa Vogliamo i cereali, vogliamo i cereali, vogliamo i cereali E avete mangiato abbastanza e poi non potrete avere le sorprese finché le scatole non saranno vuote Vogliamo i cereali, vogliamo i cereali Vogliamo i cereali, vogliamo i cereali Salve amici, sono Capitano Crispi, salviamo il mondo prima di pranzo E se non mi è presa per foglie da una scatola di cereali, Capitano Crispi, naturalmente Hai aperto la scatola e l'hai rubato Rubato? Ma stai scherzato? Prima mi sono assicurato che la scatola fosse buona Hai mangiato una scatola in casa di cereali? Sì Sì La nana ha detto che per avere le sorprese dobbiamo finire le scatole Io sono seguito le istruzioni Ma sentite, se mi ha detto la nana Ciao ammotti, come mai non siete ancora fuori a giocare in giardino? Eh, beh, vedi nonna, noi ci chiederanno se per caso Sì, noi ci chiederanno sì Ehm Insomma, siamo venuti a casa e se tu potresti... Sì 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 Ora, sei già aggiornata? Sì, perché? Beh, mamma mia, che mi dici? Vieni a cantare tu e a te la paola un'altra volta? Sì, mamma mia! Io te lo penso, mamma mia! Questi ticcattoli non guardano niente! Già, chissà come sono quelli delle scatole ancora d'arte, chiede? Che ticchè? Siete morti, ragazzi? Oh, che strato! Che ticchè? Sì, beh, ho ricevuto un po' di attorno a gioco, muoviamoci. Ma, non si alza il tuo capo, voglio dire, il capo di inserire a rispettare i nostri mostri. Per sapere, no, dovremmo prima imparare a tutti i casi. Guardate la nonna, sta facendo giardinaggio, quindi non è in cucina. Non posso credere che abbiate mangiato tutti i cereali, ma che razza di te mi vengono in mente. Ma l'hai detto tu, nonna, che per avere l'esempio si dovevamo finire tutti i cereali. Oh, sì, è bello, l'ho detto, ma non intendevo di mangiarli tutti in una volta. Visto che cosa succede quando ci si comporta da porcellini. Non è un po' di attorno a tutti i nostri mostri. Ma non è un po' di attorno a tutti i nostri mostri.